Queste sono le prime immagini raccolte da un elicottero della Guardia Costiera che con la sua telecamera ha ripreso alcuni dei 14 immigrati, tutti di origine tunisina naufragati la scorsa notte sul piccolo isolotto di Lampione a 10 miglia marine da Lampedusa, si sbracciano nell'oscurità della notte per farsi notare non sapendo che presto sarebbero stati tutti tratti in salvo. La salvezza per loro è arrivata dall'alto e non solo grazie alla buona sorte, a differenza dei 13 poveri eritrei morti affogati due giorni fa vicino Ragusa. A salvargli la vita l'allarme è lanciato da alcuni loro familiari che sono riusciti a contattare la sala operativa della Capitenaria di Porto di Palermo. Subito da Lampedusa sono partite due motovedette, giunte in zona hanno verificato che non vi fossero persone in acqua, non riuscendo però ad avvicinarsi all'isola dove si erano rifugiati i migranti a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Allora dal comando della Guardia Costiera di Catania si è alzato in volo un elicottero, la V139, dopo aver localizzato i migranti grazie al sistema infrarossi. Le immagini fanno riferimento proprio a questo particolare momento, ha iniziato le manovre di recupero tramite un verricello. Uno a uno sono stati fatti salire a bordo dell'elicottero e trasferiti in buone condizioni di salute sull'isola di Lampedusa.